benvenuti in questo nuovo video oggi facciamo un aggiornamento del botti di trading che stiamo utilizzando da ormai quattro mesi siamo a marzo 2024 abbiamo iniziato ad ottobre 2023 e quindi facciamo un po resoconto visto che non ne abbiamo più avuto modo di parlare sul sul canale youtube vediamo un po come sta andando come non sta andando questo botti di trading sulle cripto mi raccomando se non hai mai visto questo bot o dell'ai se non sai di cosa significa ti invito ad andare a vedere la nostra video recensione ti linko qui in alto da qualche parte insomma il link per andarlo a vedere e recuperare quindi e sapere di cosa parla mi raccomando questo è un bot di trading di un'azienda italiana non sono questi botti di trading di queste aziende finte fantoccio che scappano dopo dieci minuti quindi mi raccomando andate a recuperare dove andiamo a vedere un po tutte le informazioni inoltre dopo il resoconto di come sta andando in questi quattro mesi andremo ad analizzare il nostro file excel che abbiamo creato per vedere un po tutto l'andamento e visto che ce l'avete richiesto in molti abbiamo deciso di condividerlo con voi infatti troverete in descrizione il link al file google sheet dove potete andare a personalizzare la vostra situazione si è stato utilizzando questo botto di trading e andremo a vedere quali sono i parametri che dovete andare a modificare per tenere sott'occhio e capire un po qual è il rendimento che sta avendo quest'anno avendo questi botti di trading perché sono almeno per quanto riguarda noi abbiamo attivati 4 adesso basta chiacchiere andiamo a vedere un po come si sono comportati i nostri botti di trading piccola premessa ad oggi che è il 29 febbraio c'è un fermento sul mondo delle cripto infatti come potete vedere da coinmarketcap il bitcoin è tornato prepotentemente a salire infatti negli ultimi sette giorni è salito del 18 per cento anche ethereum non se la passa male è salito del quasi 12 per cento negli ultimi sette giorni comunque abbiamo un trend rialzista di tutte le cripto già questo ci fa pensare insomma che i bot stanno andando bene essendo dei bot trading di spot che fondamentalmente acquistano e vendono proprio le cripto valute non fanno trading levo altre cose del genere quindi già questo ci fa pensare che siano andati bene ma andiamo a vedere un po la situazione questo è il nostro account e come possiamo vedere dalla dashboard che sta caricando la nostra dashboard di binance adesso il saldo è di 1.355 dollari contro valore ovviamente in dollari come potete vedere qui ci riporta anche le 3 cripto valute che il bot utilizza ci fa un piccolo resoconto di come stanno andando in questo momento e possiamo vedere qui tutto il grafico e lo sentiamo subito sul periodo totale quando abbiamo iniziato piccola precisazione qui potete vedere una discesa è soltanto non è una perdita è soltanto un ribilanciamento che abbiamo fatto sui vari botti di trading che cosa era successo noi a natale avevamo attivato il cripto scalper con 500 dollari tutti gli altri bot erano con 250 dollari però avevamo notato che per l'utilizzo che vogliamo fare noi quindi anche tenere un po tutto sott'occhio il fatto che aveva il doppio del capitale sul rispetto agli altri cripto bot lo rendevano un po ballerino come come rendimento come percentuali quindi abbiamo deciso di settare tutti i bot con lo stesso capitale quindi arrivati al 7 di febbraio abbiamo dovuto stoppare il nostro bot e poi riavviarlo con il capitale di 250 dollari infatti siamo tornati alla metà quindi il totale che noi abbiamo inserito all'inizio del dell'utilizzo di questi quattro bot è 1000 dollari in totale quindi attualmente abbiamo 1356 un guadagno quindi di 356 dollari ad oggi con un mercato molto realzista una piccola precisazione che vogliamo fare se volete utilizzare se state utilizzando anche voi questo bot magari un appunto se ci state vedendo fondatori di hotline è una piccola magari critica costruttiva quello che non è possibile fare è in corso d'opera mettere in pausa il in pausa in pausa perché dito come volete in inglese in italiano comunque stoppare il il bot e cambiare la quantità di denaro che deve gestire non è possibile farlo infatti noi abbiamo che cosa abbiamo dovuto fare abbiamo dovuto stopparlo metterlo in pausa eliminarlo e crearne uno nuovo credevamo fosse possibile magari solo impostare nuovamente la la quantità di denaro di dollari che poteva gestire invece non è possibile quindi se ci sentite sviluppatori del sito sarebbe anche una cosa di da magari poter magari mettere in pausa in pausa il nostro bot magari cambiare la quantità di dollari che vogliamo destinare a questo bot e poi riavviarlo cosa che adesso non è possibile speriamo che magari in futuro sarà possibile però a parte questo piccolo inconveniente non è nulla di che abbiamo soltanto tutto cancellarlo e riavviarlo quindi non è che ci ha creato chissà quali danni era giusto una piccola precisazione che magari vogliamo fare anche con voi che magari avete intenzione di modificare la quantità di dollari gestita dai singoli botti in corso d'opera beh non è non è possibile farlo se non cancellando e richiurando da capo un bot questo che cosa vi comporta vi comporta che le statistiche delle performance vengono azzerate infatti a noi potete vedere che risulta attivo dal 7 di febbraio e non dal 26 di ottobre come come gli altri come potete dire adesso vi facciamo vedere giusto per trasparenza ecco qua se noi andiamo a cliccare su questo ci riporta che da 26 ottobre è attivo come stanno andando i singoli bot allora come abbiamo detto già nella precedente recensione questa linea blu è la performance del bot questo invece del sottostante insomma del bitcoin al momento visto che abbiamo un bel movimento realzista se andiamo a tutto il tempo di utilizzo potete vedere che in qualche zona magari si è avvicinato ma attualmente visto che il trend è molto molto realzista le performance ovviamente sono superiori del bitcoin quando finirà questo trend super realzista non è che può salire per sempre magari inizierà a scendere e scendendo salendo scendendo salendo speriamo insomma l'idea dei fondatori la nostra idea è che quella che nel lungo periodo il bot performi meglio del sottostante e ce lo auguriamo se andiamo a vedere un po gli altri le altri e clip toy a bot cripto come stanno andando da questo aspetto questo punto di vista vedete che anche quest'altro è lontano dal rendimento del sottostante ma ripeto con un trend così forte rialzista c'è da aspettarselo quello l'unico che si avvicina un po nelle nelle performance e quello si dirium infatti se andiamo a vedere nel nel time frame di tutto il periodo che lo stiamo utilizzando il bot si è sempre mantenuto molto vicino alle performance del sottostante di tir in questo caso quindi qui ha lavorato meglio magari anche perché dirmo ha avuto dei movimenti diversi da bitcoin quindi al momento come detto sta tutto salendo tutto il mondo che sta salendo anche i nostri botti trading che stanno salendo bene adesso andiamo a vedere quello che un po stavate anche aspettando il nostro file excel andiamo a vedere un po le percentuali di rendimento che abbiamo avuto tutto il capitale anche se è facile farle perché sono abbastanza cifre tonde però quello che noi abbiamo implementato è anche al netto del costo dell'abbonamento perché si questi botti vanno pagati mensilmente l'utilizzo di questi botti va pagato e quindi vogliamo andare a vedere quanto è il netto il netto che ci rimane torti costi dell'abbonamento ecco qui il nostro fantastico foglio niente di eccezionale sono quattro righe di calcoli niente di che abbiamo voluto mettere in arancione quello che va modificato infatti qui potete vedere che ci sono quattro campi che dovete modificare uno è il capitale che avete messo inizialmente nei bot fate quindi la somma se avete 100 euro in quattro bot qui andate a mettere 400 qui andiamo a mettere il totale che è attualmente gestito dai botti quindi se è in perdita di 100 dollari magari mettete 100 dollari in meno comunque è questo parametro qui che va va messo 1349 quindi il controvalore attuale non andiamo a mettere qua adesso lo aggiorniamo anche per il nostro al nostro adesso è 1349 andiamo a mettere qui 1349 cliccare 1349 altro campo che va impostato è il costo dell'abbonamento perché noi abbiamo un abbonamento che costa 7 e 49 il prezzo attualmente lievitato dopo andiamo a vedere facciamo una breve panoramica anche su quello comunque mettete qui il costo del vostro abbonamento e qui la data di inizio utilizzo quindi se iniziate oggi mettete 29 febbraio 2024 poi non va toccato più niente perché in automatico verrà calcolati quanti mesi sono e vi farà tutto il calcolo andiamo a vedere quindi ad oggi come si sta comportando la percentuale di guadagno o perdita in questo caso ne abbiamo una percentuale di guadagno l'urda totale del 34,9 per cento ripeto essendo cifre tonde è semplicissime fare la percentuale andiamo a vedere il netto invece questo è il capitale al netto di tutti i costi che abbiamo avuto per l'abbonamento quindi abbiamo un guadagno netto del 31,9 per cento in quattro mesi qui abbiamo visto anche il guadagno mensile che è il 7,60 per cento mensile come sta andando secondo noi siamo abbastanza soddisfatti ovviamente sarà anche il periodo ovviamente che è molto favoribile alle cripto siamo curiosi di vedere quando la situazione magari le cambierà leggermente ma ci sarà qualche qualche discesa come si comporteranno questi bot noi nel primo periodo che non c'era questo tutta questa scritta ma c'era un po di stagnazione si sono comportati recentemente quindi siamo abbastanza fiduciosi che anche in futuro si comportino egregiamente come detto possiamo andare a vedere adesso un po gli abbonamenti che che si che propongono attualmente i piani sono tre abbiamo ovviamente quello che è presente quando vi registrate quindi il basic che è gratuito vi fa provare la piattaforma con dei conti demo quindi potete impostare fare pratica con la piattaforma a vedere un po come si avviano come si mettono in pausa di bot però ovviamente tutto in demo e questo è gratuito poi abbiamo abbonamento pro che quello che noi stiamo utilizzando qui vi fa vedere che se volete pagare mensilmente sono 14 euro e 99 se volete pagare annualmente c'è uno sconto del 33 per cento e sono 9 euro e 99 arrodondiamo a 10 euro quindi sono 120 euro all'anno per utilizzare questo servizio poi abbiamo anche la versione trader che è una versione avanzata per chi ha magari grandi capitali perché questo sono dei sono dei limiti di 10k 10 mila dollari insomma da poter far gestire a questi questi bot quindi chi ha magari grandi capitali vuole avere un abbonamento superiore per utilizzare tutti i capitali che ha può attivare fino a 50 bot rispetto ai 20 di questo pro insomma è un prodotto totalmente diverso ci sono presse sono presenti anche delle file sul di gestione è un costo superiore e sono 50 euro al mese quindi devono essere grandi capitale per giustificare anche questo costo ma adesso quello che possiamo andare a vedere visto che il prezzo è aumentato e abbiamo il nostro file che se le che ci consente di farlo possiamo vedere se conviene quanto conviene quanto erano in attivo in passivo se pagavamo 15 euro al mese facciamo anche 15 anche non 14 99 andiamo a vedere e impostiamo il il costo dell'abbonamento a 15 euro quindi se andiamo a vedere un po come è cambiata la situazione siamo passati da un 34 e 90 per cento a un 28,90 per cento con un guadagno del 6,88 come potete vedere la differenza non è che è proprio tantissima insomma il costo dell'abbonamento che è praticamente il doppio di 7 49 lasciatecelo pure dire 7 49 per 2 fa 15 e quindi insomma anche in questo caso le performance sono state buone da giustificare il costo dell'abbonamento bene per il momento è davvero tutto mi raccomando se vi piacciono questi tipi di aggiornamenti se vi piacciono questo tipo di bot fatecelo sapere commentate se avete dubbi curiosità cose che magari ci sono sfuggite su questo tipo di servizio fatecelo sapere scriveteci le domande in nei commenti appena possibile vi rispondiamo ovviamente e mi raccomando a voi non costa nulla un bel mi piace iscrivetevi al canale così ci supportate bene per il momento è tutto al prossimo video